L'Odissea di una ragazza Il ricordo di quella sera non potrà mai essere cancellato. Ho avuto per mezz'ora la lugubre sensazione della fatalità insormontabile. Ho provato lo stesso bribido di chi scende nel pozzo profondo di una miniera. Ho toccato il fondo buio della miseria umana. Ho capito che è impossibile per certa umanità vivere onestamente. Stavo andando dal teatro del Vaudville al Rue-Druo percorrendo in fretta il viale punteggiato da ombrelli. Una polvere d'acqua non cadeva dritta ma volteggiava velando i fanali e rendendo più triste la strada. Il marciapiede era lucido, più vischioso che bagnato. La gente frettolosa non guardava niente. Le prostitute con le gonne sollevate per scoprire le gambe, mostrando alla luce dei fanali le calze bianche, aspettavano nell'ombra dei portoncini. Chiamavano oppure sfioravano, rapide e senza pudore, i passanti, mentre morboravano parole stupide e incomprensibili. Andavano dietro a ogni uomo per qualche momento, stringendosigli addosso, buttandogli in faccia un fiato puzzolente. Poi, vista l'inutilità degli adescamenti, si staccavano bruscamente, scontente, e riprendevano a camminare, dimenando i fianchi. Tutte mi pregavano, mi trattenevano per la manica, mi assillavano e mi facevano ribrezzo. L'improvviso ne vidi tre che correvano come impazzite, lanciando alle altre qualche rapido movimento. Anche queste, allora, cominciavano a correre, a scappare, tenendole sottane con tutte e due le mani per andar via più in fretta. C'era una retata quella sera. Sentì un brazzo infilarsi sotto il mio e una voce agitata morborarmi all'orecchio «Salvatemi, signore! Salvatemi! Non mi lasciate!» Le detti un'occhiata. Non avrei avuto neanche vent'anni, benché fosse già asciupata. Le dissi «Resta pure qui con me!» Lei sussurrò un «Grazie!» Arrivammo al blocco delle guardie che mi fecero passare. Presi per ridruo. La ragazza mi chiese «Vuoi venire da me?» «No! Perché no? Mi hai fatto un gran favore, di quelli che non si dimenticano!» Tanto per liberarmi di là e risposi «Perché sono sposato!» «E che ti importa? Piantiamola! Ti ho aiutato! Adesso lasciami stare!» La via era deserta e al buio, davvero lugubre. E quella donna che mi stringeva al braccio accresceva il senso di tristezza che mi aveva preso. Tentò di baciarmi. Mi trai indietro in un ridito e le dissi con durezza «Insomma, mi vuoi lasciare in pace?» Ebbe come un moto d'ira e all'improvviso cominciò a singhiozzare. Rimasi stupito e commosso. Non capivo. «Che cosa c'è?» Tra le lacrime lei mi sussurrò «Se sapessi! Non è mica da ridere! Che cosa? La vita che faccio! E perché la fai? Credi che sia colpa mia? E allora di chi è la colpa? E che ne so! Provai un po' di interesse per quella disgraziata. Le chiesi «Raccontami la tua storia!» Me la raccontò. «Avevo sedici anni e stavo a servizio a Efto da un commerciante di granaglie, il signor Lerable. Ero orfana, senza parenti. Mi rendevo conto che il padrone mi guardava in modo strano e mi carezzava le guanze. Ma non ci facevo caso. Sapevo come va il mondo, certo. In campagna si impara presto, ma l'Erable era un vecchio bigotto che andava a messa ogni domenica. Insomma, non lo credevo capace. E invece un giorno in cucina cerca di prendermi. Io gli resisto e lui se ne va. Abitava proprio di fronte a un droghiere, il signor Duran, che aveva un garzone che era davvero un bel ragazzo, tanto che mi fece incantare da lui. Capita a tutti, no? E così, la sera lasciavo la porta aperta e lui veniva a trovarmi. Ma una notte il signor Lerable sente un rumore. Sale da me, trova Antoine e vuole ammazzarlo. Ci fu una rissa. Si colpivano con le sedie, con le bottiglie. Intanto io avevo fatto fagotto e me l'ero svignata in strada. Avevo una gran paura. Mi vestii dentro un portone. Poi cominciai a camminare avanti. Avanti, senza meta. Ero convinta che uno dei due contendenti fosse rimasto ucciso e che i gendarmi mi stessero già cercando. Arrivai alla strada maestra per Rouen. Pensavo che lì avrei potuto nascondermi agevolmente. Era talmente buio che non vedevo nemmeno i fossati e sentivo i cani che abbaiavano nelle fattorie. Quali rumori si odono nella notte? Uccelli che urlano come uomini sgozzati, animali che guaiscono, fischiano, e poi tanti altri rumori misteriosi. Avevo la pelle d'oca. A ogni fruscio mi facevo il segno della croce. Non potete immaginare quanto sia impressionante. Quando tornò la luce del giorno, ripensai ai gendarmi e presi a correre. Poi mi calmai. Nonostante l'angoscia, mi venne anche fame. Ma non avevo niente, neanche un soldo, perché avevo dimenticato di prendere i 18 franchi che erano tutta la mia ricchezza. E così ero costretta ad andare avanti con lo stomaco in subbuglio. Faceva caldo. Il sole picchiava. Passò mezzogiorno. Io continuavo a camminare. All'improvviso sentì uno scalpitio di cavalli alle mie spalle. Mi volto. I gendarmi. Sento rimescolarmi il sangue e quasi cado a terra. Ma riesco a trattenermi. Loro mi raggiungono, mi guardano, e quello più anziano mi dice Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. Dove state andando di così buon passo? Vado a Rouen a prendere il servizio in un posto che mi è stato offerto. E ci andate a piedi? Sì, a piedi. Avevo un tale batticuore che quasi non riuscivo a parlare. Pensavo. Ecco, mi hanno trovata. Sentivo nelle gambe una gran voglia di mettermi a correre. Ma loro mi avrebbero ripreso subito. Questo lo capite. La guardia più anziana riprese. Signorina, perché non facciamo la strada insieme sino a Barantan, visto che andiamo dalla stessa parte? Volentieri, signore. Così ci siamo messi a chiacchierare. Io cercavo ad essere gentile quanto più potevo, al punto che loro hanno capito cose che non avevo previste. Mentre passavamo per un bosco, la guardia anziana mi fa Vandrebbe di fare un riposino sull'erba, signorina? Senza pensarci, risposi Come volete voi, signore. Lui scende, va il cavallo a quell'altro, e spariamo nel bosco tutte e due. Ormai non potevo più dire di no. Voi, al posto mio, che cosa avreste fatto? Quello fece di me il comodo suo, poi disse Non posso lasciar fuori il mio compagno. Lui andò a sorvegliare i cavalli e si fece avanti l'altro. Mi vergognavo, al punto che mi sarei messa a piangere. Ma capite, signore? Non avevo il coraggio di opporre resistenza. Ci rimettemmo in cammino, ma non chiacchieravamo più. Mi sentivo troppo triste. E poi avevo tanta fame che non ce la facevo più a camminare. In un paese mi hanno offerto un bicchiere di vino, che mi ha rimesso in forza per un po'. E poi se ne sono andati via al trotto, per non farci vedere assieme a me a Baratain. Allora mi sono seduta sull'argine di un fossato e ho pianto. Ho pianto tutte le mie lacrime. Ho camminato per più di tre ore, prima di arrivare a Rouen. Sono giunta lì, che erano le sette di sera. Da principio ero stordita da tutte quelle luci e non sapevo dove andare a sedermi. Perlomeno lungo le strade ci sono i fossi e l'erba, dove ci si può sdraiare e anche dormire. Ma in città, niente. Avevo la sensazione che le gambe mi stavano per rientrare dentro il corpo e avevo giramenti di testa così forti che rischiavo di cadere. Cominciò a piovere. Una pioggerella fine fine, come stasera, ma di quelle che infradiciano senza parere. Mi emisi a camminare per le strade. Guardavo tutte quelle case e pensavo «Da dentro ci sono tanti letti e tanto pane, e per me non troverò né un tozzo né un pagliericcio». Passai in certe strade, dove c'erano donne che richiamavano gli uomini di passaggio. In un caso simile ho dovuto arrangiarmi, caro signore. Anche io cominciai a richiamare i passanti, come facevano loro, ma non mi cercava nessuno. Avrei voluto morire. Continuai così fino a mezzanotte. Nemmeno sapevo più quel che stavo facendo. Alla fine uno mi dette ascolto. Mi chiese «Dove stai?» Una, in caso di bisogno, si fa furba. Risposi «Non posso portarvi a casa mia perché abito con la mamma. Voi non avete un posto dove si possa andare?» Quello rispose «Ah, già, così ci rimetto pure i venti soldi della camera». Pensò un attimo e continuò «Vieni con me. Conosco un posticino tranquillo dove non ci disturberà nessuno». Mi fece oltropassare un ponte e mi portò dall'altra parte della città, in un plato accanto al fiume. Non ce la facevo più a stargli dietro. Mi fece stendere e cominciò la faccenda per cui eravamo andati lì. Come andava per le lunghe. Io, morta di stanchezza, mi addormentai. Se ne andò senza lasciarmi un franco. Non me ne accorsi neanche. Pioveva, come vi ho detto. Da quella volta mi sono venuti dei dolori che non se ne sono più andati via. Avevo dormito tutta la notte in mezzo al fango. Fui svegliata da due guardie municipali che mi portarono al commissariato e di lì in prigione, dove sono rimasta otto giorni, durante i quali si accertarono chi ero e da dove venivo. Io non avevo voluto dire niente, per paura delle conseguenze. Riuscirono a saperlo ugualmente. Mi rilasciarono, dicendo che ero innocente. Dovevo riprendere la ricerca di un tozzo di pane. Tentai di trovare un posto di riserva, ma non si riuscì per quel fatto della prigione. Mi ricordai allora di un vecchio giudice che in tribunale mi aveva guardato allo stesso modo di Lerable, Aivetot. L'andai a trovare. Quando venne via mi dette uno scudo e disse Te ne darò un altro ogni volta che verrai, ma non più di due volte alla settimana. Si capisce, data l'età. Questo fatto mi dette un'idea. Pensai, coi giovani ci si ride e ci si diverte, ma ci si guadagna poco. Invece quei vecchiotti è diverso. E poi adesso le conoscevo quelle vecchie scimmie con le loro occhiatine in tralice e le loro facce da mummia. Sapete che feci, signore? Mi vestì come una serva che torna dal mercato e giravo per le strade alla ricerca dei miei vecchi pesci. Li pizzicavo al primo colpo. Mi dicevo Quello è uno che abbocca. Si avvicinava e cominciava Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. Dove andate di bello? Torno a casa dai padroni. Abitano lontano di qui, i padroni. Così, così. Poi non sapeva più cosa dire. Io rallentavo il passo per farlo parlare. Mi faceva qualche complimento sottovoce. Poi mi chiedeva di passare un momento a casa sua. Capirete? Mi facevo pregare. Alla fine cedevo. In questa maniera ne beccavo due o tre a mattina. Mi restavano i pomeriggi, liberi. È stato il più bel ricordo della mia vita. Non avevo nessuna preoccupazione. Ma non si può mai star tranquilli. Disgrazia volle che conoscessi un riccone dell'alta società. Un ex presidente di tribunale che aveva 75 anni. Una sera mi portò a cena in un ristorante dei dintorni. Poi non riuscì a contenersi. Morì che eravamo arrivati al dolce. Mi dettero tre mesi di prigione. Perché non ero schedata. Allora sono venuta a Parigi. Ma qui, caro signore, la vita è agra. Non ce la faccio a mangiare tutti i giorni. Siamo troppe. Pazienza. Ha ognuno la sua croce. Tacque. Mi camminavo accanto col cuore stretto. Di colpo cominciò a darmi del tuo. Allora. Proprio non vuoi salire da me? No, te l'ho già detto. E vabbè. Allora ciao. E grazie lo stesso. Senza rancore. Ma t'assicuro che ci rimetti. S'allontanò sotto quella pioggia sottile come un velo. La vidi passare sotto un lampione. Sparì nel buio. Poverina. La mano presa. Ma t'assicuro che ci rimetti. Sparì nel buio.